E' stato arrestato a Dubai il 4 agosto scorso e il narcotrafficante Raffaele Imperiale è considerato uno dei latitanti più pericolosi. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, condotte da Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Raffaele Imperiale, nato a Casa della Mare di Sabia nel 1974, inizialmente noto come Lello di Ponte Persica, ha costruito un'imponente network di trafficanti internazionali, in particolare cocaina. Acquistò sul mercato nero due dipinti di Van Gogh di valore inestimabile rubati nel 2002 ad Amsterdam, poi ritrovati dalle fiamme gialle. Grazie a tutti.